Zia, posso farti qualche domanda? No, domani no. Cosa custodisce il tempietto all'interno della chiesa della Santissima Annunziata? Una Madonna. Da sola? L'Annunciazione. Ecco. Qual è il titolo del film autobiografico di Franco Zeffirelli ambientato nella Firenze degli anni 30-40? Io ero troppo vicina per saperlo. Ok. Dove nacque Pellegrino Artusi? In cucina. Secondo la leggenda, il re Ostrogoto Totila avrebbe distrutto Firenze. In quale secolo? Nel primo. Perché secolo dopo. In quale attuale via si trovava il caffè Ritrovo dei Macchiaioli? Questo poi, guarda, è proprio nuova. In quale attuale via si trovava il caffè Ritrovo dei Macchiaioli? In quale attuale via si trovava il caffè Ritrovo dei Macchiaioli? In quale attuale via si trovava il caffè Ritrovo dei Macchiaioli? In quale attuale via si trovava il caffè Ritrovo dei Macchiaioli? Grazie.